Il pecorino toscano vola sui mercati esteri e segna quota più 25% dell'export, un dato, ha detto l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi, che conferma il successo del programma di valorizzazione della qualità e della tracciabilità del prodotto avviato in Toscana. E se da un lato sulla diminuzione del 13% registrata sul mercato interno hanno pesato le grosse quantità di pecorino romano immesse per il surplus di latte sardo, dall'altro la Toscana punta a far crescere ancora la produzione con interventi a tutela degli allevatori e dell'intera filiera del pecorino. Remaschi ha poi ribadito l'importanza dell'iniziativa Caseifici Aperti, che permette a tutti di vedere come si arriva al pecorino finito, così come accade per le altre filiere agroalimentari portanti dell'economia e della cultura gastronomica regionale, che si tratti di quella dell'olio o di quella del vino. Grazie a tutti.